Sospese per 90 giorni le procedure per la formazione delle graduatorie per i personali a tempo determinato, lo ha deciso l'amministratore unico del Cogesa Vincenzo Margiotta. All'indomani della notifica dell'avviso di garanzia l'assessore comunale Stefano Mariani è una dipendente della società partecipata, una scelta quella di Margiotta che mira a tutelare i dipendenti e Cogesa. Sento il dovere di tutelare i dipendenti dell'azienda, anche quelli impegnati nelle varie commissioni dei singoli profili, le centinaia di donne e uomini che hanno partecipato agli avvisi e le migliaia di utenti che quotidianamente ci danno fiducia. Interviene l'amministratore unico spiegando che per questi motivi, seppur convinto che la magistratura non potrà che accertare il regolare operato di Cogesa, voglio attendere, proprio perché lo ritengo atto dovuto per il rispetto che nutro verso la magistratura, l'essito delle indagini e le decisioni del procuratore della Repubblica di Sulmona. Spero vivamente che il via libera arrivi quanto prima perché abbiamo necessità di personale per svolgere correttamente i nostri servizi essenziali, ma anche e soprattutto per concentrarci sulla crescita e sullo sviluppo di nuove opportunità. Cogesa è l'unica realtà autoctona del nostro territorio in continua crescita e con ampie possibilità di sviluppo. Se qualcuno, anche contro i propri interessi, non vuole aiutarci faremo senza, ma almeno non facciamo del male agevolando i nostri agguerriti concorrenti e detrattori. Margiotta ricorda pure che il management di Cogesa è sottoposto, come dice la parola stessa al controllo del Comitato per il controllo analogo che opera nell'interesse di tutti i soci. Se ci sono contestazioni e quindi problemi tra chi esercita l'attività di controllo è pazzesco e paradossale, che risvolti negativi li subisca il controllato. Mi preme infine sottolineare che il controllo analogo esercitato dai 65 soci è competente tra gli altri argomenti per le decisioni in merito all'assunzione dei lavoratori a tempo indeterminato, come accaduto per la stabilizzazione dei 38 ripendenti di marzo scorso, eppur non avendo competenza sulla decisione relativa alla fase di selezione pubblica per formazione di graduatori per assunzioni a tempo determinato, non ha mai deliberato contro la decisione dell'amministratore unico, conclude Margiotta.